La Regione dota la Sicilia di un regolamento edilizio unico tipo e punta a uniformare procedure e adempimenti su tutto il territorio. Questo importante strumento normativo è stato approvato dal governo Musumeci su proposta dell'assessore al territorio e all'ambiente Totò Cordaro durante l'ultima seduta di giunta, così come previsto dalle leggi sul riordino della materia edilizia. Tale regolamento è finalizzato a uniformare in tutto il territorio regionale i regolamenti edilizzi comunali in modo tale che essi abbiano gli stessi principi generali fondati su un insieme di procedure omogenee e di attuazione dell'attività edilizia, dice la Regione. Per adattare al meglio il regolamento edilizio unico alle situazioni locali nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, i comuni potranno apportare eventuali integrazioni legate a specifiche caratteristiche territoriali. La redazione del regolamento tipo è stata portata a termine dal Dipartimento Urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con il coinvolgimento dei colleghi professionali interessati, delle consulte degli ordini professionali abilitati e del lanci. Il via libera a questo strumento, dice l'assessore Cordaro, rappresenta un nuovo tassello nel percorso di attuazione delle leggi in materia di edilizia urbanistica che hanno positivamente caratterizzato l'attività di questo governo. Il regolamento è un significativo passo in avanti nel processo di messa in sistema di tutte le realtà comunali.